Musica Non fate la grattatina, non mi semplice. Lavoro al cimitero e quindi stanno assegnando le nicchie. Io non so, vogliamo partire subito con l'ospite, facceli improvvisare. Se volete, perché ci sta con qualcuno veramente, c'è la signora Maria che mi affligge da anni. Io vorrei dire in inglese se le sue mi potrebbero lasciar passare questa cosa, ma... perché diciamo lei è cadenziale, poi porta pure la crostata, devo dire che... porta anche i dolcini. Non so, Maria vuoi venire? Non so che navega buona anche lui. Facciamo una domanda al Silvio. Oh, sta spendendo l'ailman eh. Maria, vieni aca! Vieni Maria, esce aca! Vieni! Vieni Maria, vieni a casa! Vieni Maria, vieni a casa, la voglio fare per lei. E vieni, andiamo a prendere col, vieni aca! Facciamo un applauso a Maria! Eh già! E la voglio presentare. Stavano, ah è l'ho, eh. Ci ha parlato di questa bandera, non è sempre più. Maria, non stai venendo? Ah, mi vengo a spiegare. Ah, lei parli con inglese, però è un bui, eh. Chiaramente, è un bui, c'è. Maria, fai presto però, non mi prendo dei tempi, perché diciamo, in quest'ora e mese, lei è venuta con un pullman la seconda volta all'anno, ha pagato il biglietto, un euro al mese. Ficca? E ti taglia la pensiero. Ultimamente ho portato la crostata, perché la sua felicità è che finalmente... I love. Facciamo un applauso. Vieni Maria, vieni. Che voi pensate che... Lei è la rappresentante di Scassambran. Ecco, vieni Maria. Vieni, aciappala Paolo, perché questo non sei mai caduto in generale. Si affannisce, aspettate. Vieni Maria, mamma, prendi il microfono. Ciao Maria. Un applauso. Maria, ti piace come procede a parlare? Prova. 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 Sta sudato un microfono. Dicete voi che andavi a facciamo parlare. Prova. Ah, sì. Vai, e poi... Una serie a due. No, chi sei un microfono? Ah, sì. E poi andavamo a fare di pro. E noi siamo in un microfono. Cos'è un microfono? Cos'è un microfono? Capito? Questa è una cosa che tu fai la voce e la gente ti sente. Certo. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. Allora, Maria, innanzitutto la serata ti piace? Sì, sì. Bellissimo. Eh, bellissimo. Sempre come sempre. Eh, ma chi riesce a farci i soldi in da scatola? Eh, modificare. Maria, allora, ho saputo... Eh, vai. Io, in verità, quando sono e hanno messo una gladiatoria, dice signora, voi state a numero 76. Eh, ma... Aspire. Allora... È vero, perché non puoi che questo numero 76. No, vedete che mai. Che è il numero 76? Allora, numero 76. Parla vicino al microfono. Ah, parla qua. Numero 76. Numero 76. Ma tu ti hai buttato fuori? Eh, cioè... Ho tanto raccomandato! Io vengo da te e ti sei Franco, mi puoi aiutare? Che ti ricetti? Non conosci nessuno. Che ti ricetti? Dice, senti, non posso fare l'interno. Eh, ma ti mi fatti a nanzi. Eh... Faccimi se qualcuno raccomandato. No. Eh, dice. Perché ti vende, non so se stanno a un sorteggio... Bravo. Eh, che ti ricetti? Che volevo fare fa' un sorteggio? Un sorteggio? Aprici, è vero? e dicele si, lui mi disse forse vieni pescata e ero a mare c'è te ma io faccio mai oggi non faccio mai mai questo spettacolo di farnuto e dice arriviamo a nocciolo andai a vedere andai al cimitero e andai a vedere questi loculi dove erano stati e ti è piaciuto però, dicele bello, bellissimo beh no hai già detto che questi loculi ma non c'erano i numeri ma su 76 ad un cazzo no ma io voglio dire no e mi feci un tenevo su, parla vicino un micro uuuuh 76 sono da finire sopra e come sa oggi dicetti e quello che non volevo io perciò volevo una raccomandazione fammi parlare con qualcuno io non l'ho oltre al quinto piale non l'ho oltre non esiste faccio succedere la guerra non posso prendere la scala sta servendo la raccomandazione vado fin dai scorda c'è questo come stupida c'è che la faccia giù ma c'è questo venga qua tre anni perché che lo sta dicendo sono tre anni ma quanti donne sti noi ma tu si bevi ma che te non importa c'è io voglio dire scusa mamma di non bisogna correre è buono che ti erano a tutti ma la cosa meravigliosa che queste nicchie sono state fatte dove ci sono i vicini urbani ti piace? non ce la dice tutto è sposto scusate e quella gente se ti pensa che dico scusate che le fredda franca dica bella pensate l'anno fa l'indulce vedo tutto il giusto che bella reagiate questa vista madre ma perché la serie è stata più giusta ma come è possibile non c'erano i numeri e non potete fare un suo programma nessun nessun un programma fallo tu mi facevo io i due dici ah questo mi trovo all'ultimo piano no non è neanche questo vai da risoltare io la coppia ci sa che manca si va a scendere ma poi alla fine chiudemolo come chiuderebbe per noi andai andai al comune dice no signora andate adesso hanno messo i numeri però voi non siete 76 era picciate voi dovete scegliere voi state nei primi cento e tenete tutto il diritto di scegliere dove la volete bellissimo favoloso stai direttamente io sì e che numero facciamolo vedere ma allora non ti ne bisognerà la raccomandazione perché no non mi servi proprio ah 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 non sbagliato che numero hai avuto ho scelto la 106 casomai qua dovete putti i fiori 106 segnata bello perché è importante 3 conto piano bello che piaccia 3 conto piano fammelo vedere allora bellissima facciamo un applauso a Maria che mi dite via ci facciamo nuova bellissima Paolo lancia la mano ora si cade e giriamo giù grazie